La vicenda degli oneri di depurazione da pagare o meno sull'isola di Ischia stante assente il servizio, una vecchia battaglia fatta anche negli anni trascorsi dal consigliere Bernardo. Oggi arriva un giudice che praticamente pone la parola fine a questa vicenda. Sì, per la verità, prima di un giudice locale, del giudice di pace di Ischia, vi è restata una sentenza della Corte Costituzionale che aveva dichiarato illegittimo una norma del cosiddetto legge Galli che consentiva agli enti gestori di percepire gli oneri di depurazione anche quando non vi era la depurazione. La Corte Costituzionale, non ricordo in che anno, 4-5 anni fa, disse che era illegittimo questo predico perché si paghiavano soldi a fronte di un servizio non dato. Su questo ovviamente si sono innestate le varie azioni per la restituzione degli importi pagati perché Levi e Ischia continuano a pretendere, nonostante lo scempio, il fatto notorio che non esistono impianti di depurazione, gli oneri di depurazione dai cittadini. Ora i cittadini non ne possono più, non ne possono più di Levi, non ne possono più di Giosi Ferrandino, non ne possono più dei comuni e stanno incominciando a chiedere il rimborsa. Anche perché qui non si sa quanti altri soldi bisogna pagare ai comuni e a Levi. Levi si trova in una situazione disastrosa per una gestione superallegra fatta che ha consentito a Giosi Ferrandino e a Desiano di avere un grande successo elettorale. Successo elettorale però che stiamo pagando con le nostre tasche perché Levi per apparare i guai di questi signori non è che gli fa le azioni di responsabilità a questi, aumenta le bollette idriche anche con effetto retroattivo, pretende agli oneri di depurazione quando non sono dovuti, si sono inventati tutti i balzelli di stacco del contatore, oneri per il ripristino del contatore, interessi di mora strada, cioè si sono inventati di tutto pensando di galleggiare. Ma questo è ancora uno stato di diritto per cui loro non possono pretendere quello che è contraleggione e devono restituire ai cittadini di Ischia quello che non hanno preso. E i guai li devono pagare, chi li ha fatti non li devono pagare i cittadini che hanno fatto un solo grande errore, ma è quello di pensare che Giosi Ferrandino e Domenico e Desiano erano buoni amministratori. Così non è.